Torna Ottobre in Rosa, una manifestazione dedicata alle donne, ma non solo alle donne, perché poi vengono coinvolti anche gli uomini. Assessore alle pari opportunità, Lucia Tarsi. Quali sono le novità di quest'anno? Sì, ci sono delle novità quest'anno. La prima è il fatto che abbiamo pensato che ovviamente le signore che vengono ai nostri eventi sono già sensibilizzate, perché conoscono magari già il problema. Abbiamo invece bisogno di estendere il tema della prevenzione, quindi portando anche nuove conoscenze a chi? Alle persone che non conoscono il problema. E allora abbiamo pensato di far girare uno speciale da Fano TV che verrà trasmesso dal 14 di ottobre, dove ci saranno delle medico dell'ospedale di Fano e della breast unit della radiologia che parleranno del problema della prevenzione. Quindi cerchiamo di raggiungere le signore dentro casa. Le signore e non solo, perché purtroppo il tumore al seno non è solo un problema femminile, ma è anche, anche se minima parte, anche un problema maschile. E quindi questa è una delle novità. L'altra novità è il fatto che abbiamo coinvolto associazioni che, anche se appartengono a sigle nazionali, però verranno rappresentate da signore che vengono da fuori Fano. Ci saranno delle rappresentanze da Bologna, di persone che parleranno della loro esperienza. E ci saranno anche una bellissima iniziativa che viene da Falconara, le dragonisse, che sono signore che, avendo superato la chirurgia al seno, hanno avuto come attività riabilitativa la canoa. Hanno scelto la canoa e quindi hanno costruito, costituito una squadra di canoiste. E porteremo a Fano anche questa esperienza. Quindi è la prevenzione il tema un po' dominante di Ottobre in Rosa. La prevenzione è però articolata in diversi modi. Abbiamo la prevenzione sanitaria, abbiamo la prevenzione anche rispetto a certi comportamenti nei confronti della donna. Insomma, abbiamo diversi argomenti che verranno articolati in alcuni incontri. Ce ne parla? Sì, la prevenzione... Beh, avremo un incontro a settimana, in cui parleremo della prevenzione femminile, ma non solo, a tutto campo. Parleremo anche di come si può affrontare il tema del disagio di questo tipo di intervento attraverso la scrittura, già a partire da mercoledì pomeriggio, con una terapeuta che parlerà nella sala ipogea della Mediateca, proprio dell'utilizzo della scrittura come terapia. Avremo una camminata in rosa e poi avremo una giornata finale con i medici della Breast Unit di Fano, dell'unità senologica e delle radiologhe, che parleranno dalla sala Verdi del teatro. Faranno un intervento ampio per tutte le persone che vogliano intervenire ed ascoltare su come si attua la prevenzione a 360 gradi, ma espressamente la prevenzione di tipo femminile. C'è poi questa collaborazione che Avis ha messo in piedi con la Lilt, quindi i cosiddetti Donor Day di ottobre. Sono due giornate in cui le donatrici di sangue, che si recheranno in ospedale a fare la donazione di sangue e di plasma, avranno una giornata loro dedicata con visite senologiche gratuite.